Siamo quasi alla fine di luglio e a quanto pare ci si sta finalmente accorgendo che l'inizio del nuovo anno scolastico non è molto lontano e se si vuole incrementare in qualche modo il numero delle persone vaccinate, sia fra i docenti sia fra gli studenti, è indispensabile fare in fretta, molto in fretta. Il punto però è che al momento attuale non disponiamo ancora di dati sicuri. Da diversi giorni per esempio si parla di 200.000 fra docenti e ATA non ancora vaccinati, ma per la verità molti pensano che questo dato sia sovrastimato. Negli ultimi giorni il dibattito sul tema della vaccinazione si è incentrato tutto sul dilemma obbligo o non obbligo? Spinge per l'obbligo vaccinale docenti Licia Ronzulli, senatrice di Forza Italia che ha presentato sull'argomento un apposito disegno di legge e che dichiara non possiamo permettere che delle sacche di resistenza compromettano il regolare svolgimento anche del prossimo anno scolastico. Più cauta invece la sottosegretaria all'istruzione Barbara Floridia che afferma un'alta percentuale di personale scolastico vaccinato rappresenta un tassello fondamentale nella strategia per la riapertura in presenza del prossimo anno scolastico, ma aggiunge che per quanto riguarda l'obbligo vaccinale docenti non sarà certo il ministero dell'istruzione a stabilirlo ma ci si atterrà alle disposizioni del comitato tecnico scientifico e del ministero della salute. Personalmente aggiunge non ritengo l'obbligo vaccinale per la scuola una soluzione strettamente necessaria. E si dice totalmente contrario all'obbligo vaccinale docenti anche l'altro sottosegretario all'istruzione Rossano Sasso che dichiara è assolutamente inutile e inopportuno pensare all'obbligo vaccinale per i lavoratori della scuola, mentre è del tutto da folli applicare queste ipotesi agli studenti, peraltro perché a settembre il 90% dei docenti sarà comunque vaccinato. Chi contrasta l'ipotesi dell'obbligo vaccinale fa anche osservare che il garante per la privacy si è già espresso chiaramente sulla materia, ma su questo è bene fare chiarezza. Il garante, per la verità, si è limitato a rimarcare che i datori di lavoro pubblici e privati non possono trattare i dati dei propri dipendenti relativi alle vaccinazioni. Inoltre va anche detto che la legge sulla privacy prevede che le pubbliche amministrazioni non possano trattare i dati sensibili di dipendenti e altri soggetti se questo non è esplicitamente previsto da una specifica norma di legge. Ma se il Parlamento adottasse una norma in tal senso il divieto cesserebbe di esistere. C'è poi chi sostiene che la vaccinazione obbligatoria sarebbe incostituzionale, ma anche in questo caso la questione appare un po' più complessa. L'articolo 32 della Costituzione infatti recita testualmente che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. In altre parole la Costituzione non vieta trattamenti sanitari obbligatori, tra cui anche le vaccinazioni, ma si limita a stabilire che devono essere espressamente previsti da una disposizione di legge. Su questo tema noi torneremo ancora nei prossimi giorni, quindi seguiteci su questo canale ma anche sul nostro portale www.tecnicadellascuola.it. Scriveteci, mandateci le vostre osservazioni, i vostri commenti, noi ne daremo conto come di consueto. Grazie a tutti.